La C2, che è testo argomentativo espositivo, Whatsapp, sull'ambito, insomma. Ti sembreranno facili o difficili? Beh, facili sicuramente no, però abbastanza impegnativi, ma se ti metti lì un po' di impegno sicuramente qualcosa riesci a tirar fuori. Vi aspettavate qualcuna delle tracce oppure tutte? In realtà quella su Whatsapp sì, anche alcune su, per esempio, tema storico, eccetera, però, per esempio, quelle della tipologia A non me le aspettavo, sinceramente, ma aspettavo Svevo, D'Annunzio, invece no, però è andata bene, dai. C2, il tema dell'attesa. Erano difficili o facili? A parte le tracce dell'autore, che c'era Quasimodo, poi insomma anche l'altro, insomma anche Chiera, e il resto secondo me era fattibile, dai, ci stavano le tracce, poi dopo bisognava scrivere tanto, io non è che sono bravissimo, quindi, però speriamo tutto sommato bene, dai. Era un testo che parlava del fatto che con Whatsapp e le applicazioni internet ormai non sappiamo più attendere, non abbiamo il tempo d'attesa e non siamo più pazienti, tant'è che anche il nostro comportamento ne risente, infatti diventiamo molto intolleranti in ogni circostanza. Per quanto mi riguarda era quella migliore, quindi le altre sì, erano un po' così, più che altro nella prima, nella A, ma aspettavo ad esempio D'Annunzio, invece è uscito Quasimodo che proprio non l'avrei mai detto. Nelle previsioni della vigilia c'era qualcosa che poi c'è stato oppure non ci avete neanche provato a capire cosa poteva uscire? Allora sì, un po' l'intelligenza artificiale, quindi questa cosa di internet era papabile e anche una traccia sulla guerra, in particolare parlava di Giolitti, di Giolitti non me l'aspettavo, però comunque sì, un tema della guerra ci poteva stare. Quella di Whatsapp? Difficili, cioè fuori dalle previsioni, quindi difficili. Avevate provato a indovinare qualcosa, non c'è... Zero, ha zaccato zero. Ma ti sembra sia andata? Spero bene. C1. Quella su? Ministro dell'istruzione e scelta di non fare l'esame scritto l'anno scorso. Erano facili o difficili in generale? Brutte, brutte davvero. Pensavamo ci fosse qualcosa sulla guerra oppure sui diritti delle donne, ma non c'erano. C2. Erano facili o difficili in generale? Erano carine, però tutte poste.